In questa pittola di musica andiamo a parlare di una band standunitense, una band punk rock che si chiamano i Blink 1 e 2, Blink 182, con la canzone I Miss You. Allora, il testo è un singolo estratto del quinto album pubblicato il 23 febbraio del 2004. La canzone ha un mood dark e oscuro che rappresenta una novità per il gruppo, infatti per la sua realizzazione sono stati usati basso acustico e meno forte chitarra acustica e spazzole per la batteria, perché loro comunque nelle canzoni sono molto rock, no? Invece questa è molto lenta, molto proprio melanconica. Nel testo si fa rivelimento anche a Jack e Sally protagonista del film d'animazione di Tim Burton, Nightmare Before Christmas, che richiama l'atmosfera gotica e romantica del video. Tom DeLonge, il chitarrista e voce, insieme a Mark Hoppus, afferma di essersi ispirato dal brano di The Cure, Love Cats. Nel videoclip del brano si percepiscono forti atmosfere dark, ma allo stesso tempo romantiche e sentimentali. Appunto, quindi, il testo si intitola I Miss You e quindi Mi Manchi. Allora, la canzone inizia dicendo Hello there, the angel from my nightmare. Allora, ciao Angelo, che vieni dal mio incubo. The shadow in the background of the morgue. Allora, l'ombra sullo sfondo dell'obitorio. Morgue significa l'obitorio, appunto. The unsuspecting victim of darkness in the valley. L'insospettabile è comunque ignara, unsuspecting, ignara, vittima dell'oscurità nella valle. We can live like Jack and Sally if you want. Allora, Jack and Sally sono i protagonisti del famoso film Nightmare Before Christmas di Tim Burton. E quindi, lui dice che possiamo vivere, appunto, come Jack e Sally se tu vuoi, se noi vogliamo insieme. Where you can always find me. Dove tu puoi sempre trovarmi. And we'll have Halloween on Christmas. E allora, noi potremmo, festeggeremo Halloween durante il Natale. Quindi questo ha un senso magrabo, appunto, di festeggiare insieme alla persona che l'accomuna di festeggiare Halloween durante il Natale. E di andare, quindi, controcorrente perché si festeggia una festa per l'altra. Ricordiamo che, comunque, nel film Nightmare Before Christmas, appunto, il protagonista, Jack, vive per festeggiare, appunto, il 31 ottobre, la notte di Halloween. E quindi ci sono tutti i preparativi per festeggiare tutto l'anno, per festeggiare questa festività. And in the night we'll wish this never ends. E la notte vorremmo che non finisca mai. I miss you, mi manchi. Where are you? And I'm so sorry. Dove sei? Mi dispiace tanto. I cannot sleep, I cannot dream tonight. Io non posso dormire, non posso sognare stanotte. I need somebody and always. Ho bisogno di qualcuno per sempre, che sia per sempre. Di Sick Strange Darkness. Questa strana oscurità malata. Sick vuol dire malato. Come creeping, also hunting every time. Viene, appunto, strisciando. Infatti, creep è come la canzone dei Radiohead che abbiamo fatto nella scorsa puntata. Quindi, viene strisciando. Hunting vuol dire, appunto, l'aggettivo ossessionare. Quindi, perseguitare. Invece il verbo to hunt vuol dire infessato dai fantasmi, ossessionato. Ma in questo caso, noi possiamo dirlo come. Viene strisciando e mi perseguita ogni volta. Quindi, perseguitare. And as I stare, I counted. Mentre io guardo fisso e ho contato. The webs from all the spiders. Webs sono le ragnatele. Quindi, tutte le ragnatele e di tutti i ragni. Catching things and eating their insides. Che catturando, immaginavo, mentre mangiavano l'interiore degli insetti. Quindi, appunto, questa figura è un po' magabra. Perché catching è catturare eating e mangiare il loro interiore. Like indecision to call you. Come l'indecisione di chiamarti. Quindi, io, l'indecisione di chiamare questa donna è paragonata al, appunto, al, cioè, è come una sofferenza interna. Come se ci fosse qualcosa che gli stesse mangiando l'interiore, appunto, il corpo dentro. And hear your voice of treason. Ed ascoltare, udire la tua voce di tradimento. Treason vuol dire tradimento. Will you come home and stop this pain tonight? Quindi, ti prego, torna a casa e metti fine al dolore questa notte. Don't waste your time on me. You are already the voice inside my head. Quindi, non spregare il tempo, il tuo tempo, con me, sei già una voce nella mia testa. Quindi, allora, la canzone, appunto, è molto triste, però l'invito ad ascoltarla con la traduzione. Quindi, magari si può capire qualcosina in più. Come ripeto, appunto, anche soltanto una parola imparata, già vuol dire tanto. Quindi, a inizio di Blink182 è tutto. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.